Lorenzo Saraceno, buonasera. Buonasera. Benvenuto, davvero benvenuto qui nel posto delle parole per condividere insieme con i nostri ascoltatori il suo libro, libro che lei ha curato, pubblicato dalla casa editrice Ancora Libri, Camaldoli, solitudine e comunione, le fonti spirituali di un carisma millenario. Leonardo Saraceno è un benedettino dell'ordine dei camaldolesi e lei è collegato con il posto delle parole esattamente da dove, Lorenzo Saraceno? Da Bardolino, dall'eremo San Giorgio che si trova sulla prima altura sul lato veronese del lago di Garda. E che cosa vede dalla sua finestra adesso, se ha la possibilità di spaziare? Io vedo il golfo di Garda e di fronte a me Salò, in questo luogo elevato, 250 metri rispetto al livello del lago, e con una prospettiva che guarda il mondo da un certo punto di vista dall'alto, mentre dal basso dei luoghi abitati, se si guarda in alto, si intravede il nostro eremo. C'è una sorta di rispondenza tra l'alto e il basso che certamente era voluta da chi ha fondato a suo tempo questo eremo. Nel 1600? Sì, nel tardo 600. Quanti monaci benedettini siete in quell'eremo di San Giorgio? Una decina in questo momento. Una decina tra l'altro è aperto al pubblico, immagino. Sì, la chiesa è sempre aperta, la liturgia è sempre aperta, e poi noi ospitiamo, secondo la tradizione millenaria benedettina, e anche quella più recente dei benedettini camaldolesi, ospitiamo coloro che vengono per qualche giorno per un momento di riflessione, di spiritualità, a seconda, adattandoci un po' alle loro richieste, e loro cercano di adattarsi al nostro ritmo di preghiera e alla nostra sensibilità, nel caso vogliano interferire con noi per un confronto spirituale. Lorenzo Saraceno, Camaldoli, Solitudine e Comunione è questo il titolo, però noi abbiamo citato l'eremo di Camaldoli, abbiamo citato l'eremo di San Giorgio a Bardolino, abbiamo citato i benedettini, però qui facciamo un passo indietro, anche perché è importante noi qui nel posto delle parole, amiamo dire che amiamo inciampare nelle parole, perché se inciampiamo forse le vediamo, le conosciamo ed entriamo bene dentro. Allora, che rapporto c'è tra i monaci benedettini e Camaldoli? Un rapporto complesso nel sviluppo dei mille anni della storia di Camaldoli e dei 1500 della storia del movimento, che a partire da Benedetto ha più o meno diffuso in tutta la cristianità latina nel corso del Medioevo. L'eremitismo nell'Occidente cristiano ha avuto forse una storia meno significativa rispetto all'Oriente, però c'è sempre stato come un elemento, uno dei due polmoni del movimento monastico, già dall'epoca dei padri del deserto. Ma intorno al X-XI secolo c'è stato, per motivi che nel mio libro parte e cerco di illustrare, una sorta di revival del movimento eremitico, che si è come creato spesso accanto al monarchesimo cenobitico, soprattutto intorno alla riforma cluniacenza, con una sorta di scopo di rivitalizzare un monarchesimo che si stava infeutando in sostanza per un ritorno a una dimensione religiosa per certi aspetti più profonda e più radicale. Detto in modo molto semplicistico, però è certamente curioso che intorno al X-XI secolo si sviluppano dei fenomeni eremitici in contatto e accanto al contemporaneo cosiddetto nuovo monarchesimo che la clunia e poi con la riforma cistercense trova un suo sviluppo molto rilevante nella storia della latinità occidentale. E la figura importante, la figura fondativa di Romualdo è tutta quanta da conoscere, da raccontare, Lorenzo Saraceno? Certo, è una figura di cui sappiamo da un certo punto di vista tanto e da un certo punto di vista poco, ma certamente che era a contatto sia con uno dei grandi promotori della riforma monastica proprio Odilone di Cluny e con altri esponenti invece del movimento eremitico come Nilo di Rossano, ma che gravitano tutti intorno alla figura enigmatica per tanti aspetti di Ottone III con questa breve esperienza che a un certo punto esplode intorno al 1002, ma che certamente è stata per un polo importante della storia non solo politica, ma anche religiosa di quel momento. E in questo libro, libro che lei ha curato, Camaldoli, Solitudine e Comunione, tocchiamo con mano qual è la vitalità storica, intellettuale, religiosa, artistica di quella comunità. E ci sono degli scritti antichi medioevali e Alessandro Barbani, il priore generale di Camaldoli, nella prefazione scrive che questi non sono semplicemente i documenti degli scritti antichi medioevali, quasi che fossero morti, solo da conservare una polverosa antica biblioteca. Non è affatto così, perché contengono la ricchezza ineguagliabile dell'unità tra intellectus e affectus. Ecco, siamo proprio tra queste due parole, Lorenzo Saraceno. Sì, proprio perché l'esperienza monastica vive nella società di quel tempo, soprattutto ovviamente nelle alti, nel momento dello sviluppo, della trasformazione, potremmo dire, dall'impero feudale nell'età di Ottone a quelle che saranno poi le corti medievali. Io sono solito collegare il mondo eremitico con il contemporaneo nascere del fenomeno della cavalleria, quindi di questa individualità che ricerca un senso della vita, un senso dell'elevazione che sia intellettuale e spirituale. Secondo un paradosso che si diceva una volta che il Chierico insegnava, per esempio, ai cavalieri ad amare, io dico gli eremiti, forse ancora prima dei Chierici dell'undicesimo secolo, hanno una forte tensione spirituale che ha poi il suo riflesso in tutto un sviluppo di sensibilità che può passare attraverso il Petrarca, per fare forse l'esempio dal punto di vista spirituale e culturale più rilevante nella nostra cultura. Ora spostiamoci geograficamente, lei ci sta parlando dall'eremo di San Giorgio, questo monastero camaldolese, ma andiamo a Camaldoli. Camaldoli è in un posto straordinario, magico, immerso nel verde, in quella foresta che è stata creata per l'appunto dai monaci. Sì, una cosa che secondo me è importante per capire il movimento eremitico e monastico nell'età medievale dal punto di vista storico e anche dal punto di vista simbolico per quello che può rappresentare nella sensibilità nostra è il fatto che l'eremo in Occidente non è il deserto nell'Occidente cristiano, non è il deserto dei padri della Chiesa, cioè un luogo senza vegetazione, un luogo inospitale, ma dove la natura da un certo punto di vista si è ritratta. Ma il mondo medievale era un mondo di selve, di bosco, era un mondo selvaggio nella Italia, la Francia, la Germania e quindi il monaco si trovava dentro per certi aspetti di un eccesso di natura e lui si trova a trasformare nella separazione che la foresta costituisce rispetto al mondo abitato, un luogo dove si mette ordine alla natura. Pensiamo alla letteratura cavaleresca, non so io, un Perseval che va e è un cavaliere errante che trova al centro della foresta un'eremita che gli raddrizza un po' la vita, insomma. Ecco, l'elemento del locus amenus, del giardino, dell'Eden ritrovato è un elemento molto forte dal punto di vista della collocazione di molti eremi e anche di molti monasteri, pensiamo chiaravalle, camaldoli che forse vuol dire campus amabilis, cioè è un luogo da un certo punto di vista separato che però costituisce una sorta di cuore pulsante all'interno di un mondo dove la natura, se no abbandonata a se stessa, diventa la selva o scusa di l'arte per intenderci. E qui però a questo punto Lorenzo Saraceno entra in campo un'altra parola che è una parola importante ed è la parola carisma, perché questo per dirla alla Manzoni il carisma uno non se lo dà, no? È come il coraggio, il carisma bisogna averlo, bisogna costruirlo ed è molto difficile. In che modo il carisma di questo luogo e di queste persone si sono costruiti e si sono rivelati nel corso del tempo? Questo è più difficile spiegarlo, almeno per me. Io tenderei a dire che il carisma fondamentalmente lo si scopre pian piano attraverso un procedere a tentoni su ispirazioni più o meno definite, più o meno nette, ma che pian piano si costruiscono, insomma, no? E in cui uno si trova poi piano anche a leggere la propria vita in un modo diverso. A leggere la propria vita in modo diverso, come leggere la vita di San Romualdo attraverso gli scritti di Pier Damiani attraverso altri scritti che lei ha curato, tradotto, come quelli La vita dei cinque fratelli di Bruno di Carrefour e quindi è stato un lavoro lungo quello della ricerca per costruire questo libro? Un lavoro, direi, di per sé è un lavoro più che ventennale, legato fondamentalmente a un incarico che ricevetti 25-20 anni fa di curare dell'opera Omnia nell'edizione italiana e latina di Pier Damiani, evidentemente intorno a questo poi i camaldolesi che avevano promosso questa edizione, proprio perché era uno degli elementi fondamentali delle loro fonti originarie, evidentemente i miei interessi si sono esteti anche alle altre fonti, insomma, no? Con l'aiuto di altri, ovviamente. Sì, perché è un libro, è un libro plurale che racconta per l'appunto la pluralità di queste storie e nello stesso tempo le fa diventare molto singolari, perché ci fa, e ci fa arrivare a che cosa? Ci fa arrivare a una parola che è anche citata in copertina, alle fonti spirituali. E qui, per riprendere le parole del priore Alessandro Barban, sono delle fonti, sì, storiche e quant'altro, però sono soprattutto fonti spirituali ed è quello che emerge forse anche, che crea la parola carisma, che crea anche quel grande risuonare della parola di Camaldo, Sì, spirituale non vuol dire più che non tengono conto della vita concreta, non è come dire una dicotomia di un platonismo di bassa lega, dove la corporeità è l'antitesi, la spirituale è nel senso di quello che cercavo di dire prima, laddove un po' la storia, la testimonianza, le parole, i luoghi, via via significano qualche cosa nel loro coniugarsi con le condizioni storiche che evidentemente mutano, che sono anche difficilmente leggibili nel loro complesso, ma che comunque suscitano delle reazioni, delle ipotesi, delle modi di relazionarsi e che sono poi quella della vita stessa, una vita che però non è soltanto secondo un progetto scritto, ma è secondo un progetto che via via si costruisce nel cuore nell'ascolto della parola di Dio e nell'ascolto di quello che lo Spirito detta nel nostro cuore. Senza dimenticare ovviamente l'ascolto delle parole, delle parole comuni della gente, di coloro che bussano alla porta, di quelli che passano e che può darsi anche che non credono nessun Dio, ma comunque la capacità dell'essere remita non è quello di ritirarsi dal mondo, ma di ritirarsi sì, ma nello stesso tempo di dialogare col mondo. Sì, come dicevo prima, il nostro eremo, come lo stesso eremo di Camaldoli, come molti dimenticare, si trovano su un monte, ma il monte è qualcosa a cui si… perché quando guardo in alto do una prospettiva diversa alla vita, alzo gli occhi verso il monte, do dove mi verrà l'aiuto, dice il Salmo. Però quando io salgo assumo anche una prospettiva in cui il mondo è da un certo punto di vista distante, ma soprattutto più che distante trovo un altro punto prospettico di osservazione. Eh sì, questo è importante, soprattutto oggi. E quindi, soprattutto oggi o sempre, è come dire, c'è bisogno di guardare in alto, ma anche di guardare dall'alto. E che non è semplicemente un discorso di posizionamento geografico. Lorenzo Saraceno, lei come ha cominciato la giornata di oggi? Ho cominciato andando agli uffici comuni che noi celebriamo alle sei di ogni mattina. E in che cosa consistono? Consistono nella recita di una parte del Salterio e di una lettura della parola di Dio e di un testo spirituale della tradizione della Chiesa. Vedo qui, tra le varie sottolineature di questo saggio, Camaldoli, Solitudine e Comunione, certo, andiamo a pescare nella storia dove ci sono le indicazioni sulle osservanze su che cosa fare nel corso della giornata. Per esempio, l'uso del pasto a mensa. I fratelli si recono a mensa tutti i giorni di doppio pasto o di digiuno semplice per nutrirsi di alimenti tanto corporali quanto spirituali, tranne le due quaresime. Ecco, qui poi segue sulle cose che si possono e devono essere mangiate e cucinate, ma questa è una storia che va conosciuta. Ovviamente oggi la situazione è del tutto cambiata, ovviamente, Lorenzo Saraceno. Sì, certo. Guardare alle fonti spirituali non vuol dire guardare all'immutabile, è guardare lì per vedere come oggi un desiderio di sobrietà, di essenzialità e di non dipendenza dai condizionamenti che possono essere quelle dei sensi o di altro tipo, come tutta questa vigilanza e questa è l'ascesi in sostanza, arrivare non per abilità ma con accoglienza del dono dello spirito, quel dominio di sé che, dice Paolo, non è la conquista dell'uomo ma è un frutto dello spirito. Anche se si dice che l'abito non fa il monaco, nelle disposizioni c'è anche scritto una cosa importante e vorrei condividerla con lei. L'abito talare è la somma giustizia, la perfezione della santità, come dice il profeta. Ecco, l'abito talare è questa somma giustizia, la veste talare proprio perché deve arrivare fino ai talloni, cioè deve durare per tutta la vita. Oggi come oggi l'utilizzo della veste talare è ancora in uso oppure no? Ma i camaldolesi, confesso, sono abbastanza più liberi sull'uso, a parte quello liturgico, nelle situazioni un po' più ufficiali. Anche perché lavorare oggi con l'abito talare è complicato, soprattutto se è bianco. Ma certo, l'abito talare all'epoca delle costituzioni che lei sta citando, Beato Rodolfo, dell'undicesimo secolo erano abiti non molto diversi da quelli della gente comune, mentre oggi il mondo è un po' diverso. E certamente, poi deve vivere insieme col tempo pur essendo in un ambito eremitico. Lorenzo Saraceno, ma lei come si è avvicinato al monachesimo? Questa è la domanda più difficile. Mi sono avvicinato al monachesimo attraverso un mondo di amicizie, di crescita da adolescente o giovane, insomma, a contatto con la parola di Dio, eccetera. Poi pian piano una serie di conoscenze che si sono definite progressivamente e direi soprattutto a partire da una passione per la Sacra Scrittura che mi è nata proprio perché qualcun altro mi ha insegnata. Io sono solito dire che il primo libro che a 15 anni ho comprato con i miei soldi era stata la prima edizione in francese della Bibbia di Gerusalemme, che allora esisteva solo in francese. Perché? Perché così mi ero stato un po' spinto dalle relazioni, da quelli con cui stavo crescendo. Da lì è venuto fuori quel che è venuto fuori, non so se grande o piccolo, che sia, ma è venuto una storia, la vita di una persona. Lorenzo Saraceno, da ragazzino comprarsi la Bibbia in lingua francese voleva già dire che c'era forse qualcosa di più che un interesse. Certo, perché c'era qualcuno che mi sollecitava e mentre non riuscivo magari a leggere i libri di meditazione che ti proponevano allora per l'educazione cristiana, perché mi annoiavano, la Bibbia ha incominciato a leggere, a interessarmi, a incuriosirmi e a farlo volentieri, insomma. E oggi, nel 2022, le nuove vocazioni camaldolesi? Le nuove vocazioni sono un po' come nella situazione in cui un po' tutto il mondo religioso, oggi che è alla prova, perché la forma della vita religiosa certamente resta più stravagante rispetto, in senso letterale, rispetto a quello che cerca il mondo. Quindi, in una situazione non più di cristianità, ma di minoranza, e in una situazione di un soggettivismo che ha tutta una serie di elementi positivi, ma anche un approccio diverso rispetto al mondo spirituale, ci sono le difficoltà, l'eremitismo magari affascina perché è una vita solitaria, ma come dice Benedetto e il mondo camaldolese di Camaldolo ha sempre riaffermato, bisogna di diventare eremita, se vuoi diventare eremita devi prima misurarti con la relazione, con la comunità, con la vita comunitaria, con il monastero, perché sennò la vita solitaria diventa un'illusione o una pretese di essere il migliore. Eh sì, perché poi c'è un disequilibrio psicologico molto forte. Prima di chiudere questa conversazione, Lorenzo Saraceno, torniamo, torniamo da dove siamo partiti, dal suo eremo, l'eremo di San Giorgio. Quest'anno è una buona annata per le olive. Speriamo di sì, perché l'anno scorso è stata una cattiva annata, quest'anno speriamo tutti che se il tempo ce lo consente avremo un buon racconto. E questo è molto importante, come mai l'anno scorso non è stata una buona annata? Non è stata una buona annata per tutto il lago di Garda e un po' per tutto il nord Italia, per motivi sostanzialmente legati alla situazione meteorologica così complicata di questi ultimi anni. E prima di salutarci, Lorenzo Saraceno, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Mi spiazza in questo momento perché ho più libri sul tavolo. Se vuole, quello che mi è capitato ieri, perché avevo l'occasione di essere in una libreria, l'ultimo discorso che fece Dossetti ai monaci della sua congregazione, che è stato ripubblicato di recente, che ho preso al volo e che però devo ancora aprire, ho letto l'indice, insomma no? E siccome a suo tempo Dossetti fu certamente una persona che mi interessò molto nella mia gioventù e anche maturità e che abbia occasione di sentire, di conoscere alcune volte, allora vedere come Dossetti leggeva con la sua passione radicale di una fedeltà a Dio, ma anche una passione radicale verso la storia, verso la storia anche politica, verso la storia con tutte le sue contraddizioni, questo mi è parso, il vedere una ripubblicazione di un testo probabilmente inedito, perché ho capito che quindi non conoscevo, questo mi ha subito stimolato a prenderlo e a ripromettermi di leggerlo nei prossimi giorni. Grazie davvero per il tempo che ci ha dedicato e buona giornata. Grazie anche a voi.